Il Vasto Girardi mostra i muscoli e con un gol per tempo supera al Ditelle il Notaresco. I gialloblu di Prosperi riprendono la marcia dopo il K.O. di Pui di Montematese, mentre per gli uomini di Epifani continua il momento poco felice. Abruzzese ancora a secco di vittorie nel girone di ritorno. Castellano di Nichelino designato per la regolarità del confronto. Il Notaresco parte forte, due giri di lancette, Sorrini crossa da destra, Maio gonfia la rete ma in posizione di fuorigioco. Gol annullato dal direttore di gara. La risposta del Vasto Girardi arriva al quinto. Salatino serve a Laggia, conclusione fuori dallo specchio. Ci prova poi Ruggeri su calcio piazzato, conclusione debole che Sciba blocca senza problemi. Minuto 14, si vede il Notaresco con una conclusione di prima intenzione da parte di Massarotti, cuoio che termina lontano dallo specchio. Il match è piacevole, il Vasto Girardi vuole il vantaggio e ci prova con Salatino che offre da Laggia, sfera deviata in corner. Poco dopo la mezz'ora riecco gli ospiti. Diarrà fa viaggiare Valenti a destra, cross al centro, ma nessun compagno è pronto ad intervenire. Scampato il pericolo, al 32esimo il Vasto Girardi passa. Palla centrale per Guadalupi che va in percussione e scarica la sfera alle spalle di Sciba per l'1-0. Incassato il corpo, l'undici di Epifani reagisce subito. Punizioni di Valenti, Distasio interviene con i pugni ed evita problemi. È l'ultima emozione del primo tempo che si chiude con il Vasto Girardi avanti 1-0. Con il montaggio di Marco Pece siamo nella ripresa. Minuto 13, palla con il contagiri di Guadalupi per Guida, che davvero Bomber non si lascia sfuggire l'occasione e fa 2-0 Vasto Girardi. Al 17esimo è Salatino ad andare in percussione e a servire nello spazio Guida. Sfera troppo lunga, Sciba esce senza particolari problemi. Il notaresco prova a riaprire il match. Ventesimo cross di Sorrini, Maio in corna ma non inquadra lo specchio. Tre minuti dopo è Valenti a provarci dalla distanza. Distasio si oppone con i pugni. Grande chance per il Vasto Girardi al 31esimo. Allagia ruba palla a Fredrik e conclude da buona posizione. Sfera che però si spegna a lato. Nel finale il notaresco prova a rendere meno amaro il pomeriggio del Ditella. 41esimo Bruno assiste Maio, conclusione dalla distanza ma la sfera termina le stelle. Due minuti dopo Pampano offre a Valenti che conclude a botta sicura. Distasio con un super intervento nega la gioia del gol al 10 rosso-blu. Al triplice fischio il Vasto Girardi fa festa insieme ai suoi tifosi e pensa alla trasferta di Chieti. Per il notaresco un pomeriggio da Chivare in fretta.